Lunedì, la Commissione per i diritti umani del Parlamento europeo ha discusso del prelievo forzato di organi da prigionieri di coscienza in Cina. Negli ultimi anni abbiamo regolarmente ricevuto denunce di prelievi di organi in tutta la Cina, effettuati su gruppi minoritari, tra cui i praticanti del Falun Gong, gli Uiguri, i tibetani, i musulmani e i cristiani imprigionati. Nel 2019 il China Tribunal di Londra ha stabilito che il prelievo forzato di organi approvato dallo Stato ha luogo in Cina da anni e su scala significativa. L'ex Presidente del Tribunale ha testimoniato lunedì. Abbiamo applicato i test probatori più rigorosi per arrivare alle nostre conclusioni. Abbiamo usato il principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio, senza considerare opinioni di terzi. Abbiamo verificato le prove in cerca di controprove e siamo giunti alla conclusione che il prelievo forzato di organi è dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio. Cioè, delle persone come quelle del Falun Gong vengono uccise allo scopo di prelevarne gli organi e commercializzarli. I dati hanno mostrato che nei primi anni 2000 gli ospedali cinesi effettuavano fino a 90.000 trapianti di organi l'anno, mentre le cifre ufficiali del regime ne riportano solo 10.000. Il Tribunale ha scoperto che gli aderenti al gruppo spirituale Falun Gong sono probabilmente la fonte principale degli organi. La Cina è diventata una delle mete preferite per chi ha bisogno di un trapianto, perché gli ospedali cinesi possono reperire gli organi in pochi giorni. Come è mai possibile che questo Paese possa commettere un crimine così grande, su così tante persone, con così tanti innocenti che hanno perso la vita? È davvero incredibile. Il Presidente della Commissione ha detto che ci sarà un seguito. Credo che si debba scavare più a fondo nella questione e vedere come l'UE possa far pressione sulla Cina e seguire con i nostri apparati legali quanto sta accadendo oggi in Cina.